Roberto Miele, vicecomandante regionale del Corpo Forestale, durante il suo intervento ha sottolineato l'importanza di attuare un solido sistema di controlli sull'agroalimentare e di come il sistema istituzionale non sempre riesce a svolgere questo compito. Cosa possono fare le istituzioni in tal senso per migliorare la situazione? Scusi, vorrei precisare che non ho detto che non abbiamo un buon livello di controllo, anzi diciamo che in certi casi il controllo è troppo ripetitivo rispetto alle aziende. Forse c'è un poco meno di efficienza di quello che potrebbe esserci, ma come efficacia dei controlli, i controlli italiani credo che siano al top in Europa sicuramente. Noi siamo all'avanguardia anche come legislazione, quindi sono gli altri paesi che in questa materia prendono esempio a noi. Sicuramente un maggiore coordinamento dei controlli potrebbe essere un elemento importante, però siamo già ad altissimi livelli. Il settore agroalimentare sicuramente è un settore, oltre ad essere estremamente importante dal punto di vista economico, ma è anche strettamente connesso con l'ambiente. Quindi il corpo versale nel campo dell'agroalimentare secondo me può svolgere un ruolo centrale nel sistema dei controlli, però per la sua vocazione a poter conoscere sia di problemi ambientali sia di problemi agricoli, per il suo background culturale che deriva da una lunghissima attività a strettissimo contatto col mondo rurale e montano. iera Tremoto 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 Grazie a tutti